Oscar, bel giornale! Non lo prese! Si caccia l'aria! Il bar Soltamunjov è il nuovo spettacolo che il Guitto propone quest'anno. Le prevendite sono state aperte ieri, va molto bene, noi siamo molto contenti che il pubblico sia sempre così vicino a noi e così affezionato al nostro gruppo. Questo bar è un luogo immaginario che noi abbiamo collocato tra città e campagna, proprio ai piedi del colle, che poi in realtà così tanto immaginario non è perché i miei nonni avevano il bar proprio lì alla fine degli anni Sessanta. In questo bar si incontrano, alle volte si scontrano, tutti i personaggi del quartiere, con le loro vicende, con i loro amori, con le loro vicissitudini e il pubblico seguirà le vicende di questi personaggi, un po' strani, un po' bizzarri, alcuni un po' grotteschi, per tutta la durata dello spettacolo. Alcuni magari avranno una vicenda che invece si svolgerà il tempo di un caffè o di una moretta, perché no? Quello che ci piaceva era raccontare una storia, in particolare la storia di questo bar, perché in un tempo così, dei social, in cui siamo tutti abituati un po' a comunicare, però a distanza, il bar rimane ancora un po' quel baluardo in cui le persone si possono incontrare veramente faccia a faccia e poter scambiare le opinioni, poter parlare semplicemente del tempo o perché no anche di cose più importanti e dove si possono incontrare e scontrare, ma perlomeno di persona. E questo ci piaceva raccontare con la nostra solita ironia, con il divertimento, con la bravura dei nostri attori che si sono divertiti a creare dei personaggi veramente divertenti. Lo spettacolo andrà in scena il 24, il 25, il 26 febbraio e il lunedì 2 marzo. Noi vi aspettiamo, le prevendite sono aperte, saranno aperte per tutto il weekend, sia mattina che pomeriggio e quindi vi aspettiamo al bar Sottamunjov. Sottamunjov.